R1. Record di sequestri di cocaina e cannabis in Italia è quanto emerge dalla relazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. 91 tonnellate a fronte delle 59 rinvenute nel 2020, un incremento che va oltre il 54%. Triplicati nel 2021 i sequestri di due potenti sedativi, noti anche come droga dello stupro. Resta la cannabis lo stupefacente più sequestrato nel nostro paese, ma è il record di confische per la cocaina. Il prefetto Vittorio Rizzi, direttore centrale della Polizia Criminale. Il dato maggiormente significativo è il sequestro record di cocaina che quest'anno tocca le 20 tonnellate. 13 di queste 20 tonnellate sono state sequestrate nel porto di Gioia Tauro. Una fotografia che fa ben sperare. Diminuiscono i morti per overdose a fronte però di un aumento della droga sequestrata. Preoccupa lo spaccio, sempre più diffuso sul dark web. Con alcune app è facile scambiare messaggi e poi eliminarli cancellando le tracce di un eventuale scambio tra pusher e acquirente.